Tragedia questa mattina sulla 131, un poliziotto di Siniscola di 38 anni è morto sulla strada travolto da un'auto in località Posada, in direzione Olbia al chilometro 103-600. L'agente, in servizio con una pattuglia della polizia stradale, stava prestando soccorso a un automobilista. Il grave incidente si è consumato in pochi attimi. A niente, purtroppo, è valso l'intervento dell'elisocorso di Aresus. L'uomo è deceduto sul colpo. Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente della regione, Cristian Solinas, ai familiari dell'agente, alla polizia stradale. A nome mio personale della giunta, ha detto il presidente, desidero esprimere la mia partecipazione al dolore per questo tragico incidente che ha causato la morte del giovane poliziotto Marino Terrezza, padre di un bambino. Ha perso la vita nello svolgimento del suo lavoro nel quale si è sempre distinto per impegno e generosità.